La protagonista di Benedetto sia il padre al mio stesso nome non è un caso. Mi piace sempre dire che non sono le sue vicende in sé simili alle mie perché abbiamo anche fatto dei percorsi molto diversi però abbiamo in qualche modo respirato le stesse sensazioni e le stesse emozioni quindi a mano a mano che andavo avanti nella stesura del romanzo mi sono resa conto che questa protagonista non poteva non avere il mio nome e il mio nome in tre sfaccettature diverse perché lei prima Rosè poi Rosa poi Rose a dimostrare che è comunque un personaggio in crescita che però devo dire alla fine mi somiglia moltissimo mi sono ritrovata tanto in questa bambina e poi adolescente e devo dire che anche dal punto di vista propriamente artistico letterario lei ha dato tantissimo a me quindi era giusto che avesse il mio nome. Bari e la Puglia in generale sono sempre molto importanti nelle mie storie mi piace definirle un altro personaggio dotato proprio di vita e quasi di pensiero mi piace molto raccontare le mie radici le mie origini mettendo in evidenza gli aspetti positivi e gli aspetti negativi che inevitabilmente la distanza ha ingigantito perché come se avesse una grande lente di ingrandimento che mi fa vedere meglio quello che quando ero piccola e vivevo in quei quartieri non riuscivo ancora a focalizzare con attenzione. Mi piace anche sottolineare l'aspetto un po' macchiettistico di questo sud questo realismo magico come qualcuno l'ha definito per cui animato da masciare da donne da comari che spiano dietro l'uscio sempre quello che succede ai vicini di casa o nel quartiere. Mi piace dare vita a questo sud perché lo trovo molto molto colorato e molto vivo quindi per ora quello che ho scritto fino adesso lo rappresenta in questo modo. Penso di allontanarmi per un po' da questa visione penso di andare un po' altrove perché ne ho bisogno però secondo me sarà inevitabile poi tornarci. Parlare di perdono è difficile nel senso che il perdono lo raggiungi a fatica e forse è un concetto troppo grande da realizzare appieno quando hai determinate ferite come nel caso di Rosa. Sicuramente questa donna scopre l'indulgenza, scopre la capacità di accettarsi e accettare quindi anche gli altri nel momento in cui accetterà se stessa, accetterà anche faccia d'angelo e accetterà in fondo anche Marco, il marito da cui decide di allontanarsi, ma lo vedrà così com'è, come un uomo fragile che ha un disperato bisogno d'aiuto. Quindi sicuramente il perdono è un processo complesso però mi piace pensare che ci si possa riconciliare anche se con sfaccettature diverse. Gli studi sulle donne in generale, sui processi di emancipazione femminile, sulle questioni di genere, mi stimolano sempre molto verso la scrittura. Volevo raccontare di una violenza domestica che fosse una violenza assistita, che non fosse diciamo il solito cliché, che è molto difficile parlare di violenza domestica perché è un tema di cui si parla tanto, ma si parla poco nello stesso tempo, ma si rischia di parlare in modi già detti. Io volevo raccontarlo dal punto di vista di una figlia, di che cosa rimane sulla pelle di un figlio quando assiste alla violenza in casa, anche se non direttamente su se stesso, ma alla fine è su se stesso perché è su Rosa. Sicuramente i miei percorsi di studi influenzano sempre le mie scelte anche letterarie, però come ho detto anche alla presentazione di stamattina, questa storia in particolare credo che mi rimarrà sempre nel cuore. Per quanto mi riguarda sarà la mia storia, il mio romanzo più importante. Per quanto mi riguarda sarà la mia storia, il mio romanzo più importante.